molto si discute giustamente molto si critica sarri che sta commettendo errori clamorosi che non riesce a presentare una juve decente in relazione alla forza della squadra è anche vero però che non è sarri l'unico flop di questa juve bisogna mettere in discussione anche le scelte che ha fatto paratici sul mercato estivo un mercato che si sta rivelando da cinque perché il rabbiò è una clamorosa delusione aveva dato qualche segnale poi si è smarrito perché ramsey non ha continuità di rendimento alla fine l'unico acquisto azzeccato sembra essere d'elite però a che prezzo 75 milioni di euro 12 milioni di euro netti all'anno al giocatore era difficile sbagliare un acquisto a queste cifre quindi diciamo che se è giusto muovere appunti a sarri e altrettanto per mettere in discussione le scelte dell'uomo mercato bianconero